Come sei particolarmente amareggiato dopo l'episodio delle go-bike vandalizzate in Piazza Santa Lucia? Sono rimasto molto deluso da questa azione fatta nel quartiere dove stiamo cercando di dare una grande ripresa dopo anni di abbandono, dove abbiamo trovato molto collaborazione dei residenti e quest'atto mi ha un po' deluso ma non ci ramarichiamo, andiamo avanti, cercheremo anche di superare questo duro scoglio che sono poi ragazzate perché non possiamo definirli atti vandalici di fatti apposta, sono ragazzate che in modi corretti verranno superati, verranno combattuti e superati tranquillamente. Presidente, due vigili urbani in Piazza Santa Lucia, è una zona centrale, la borgata comunque è un rione popoloso, una pattuglia fissa, definiamola così, un ufficio mobile, un chiosco, probabilmente potrebbe aiutare a gestire meglio la situazione alla luce del sole. Posso dire che nel mese di gennaio insieme ai ragazzi del Consiglio di Quattiere abbiamo presentato un esposto a una lettera fatta al questore di Siracusa dove chiedevamo nel periodo primaverile, visto che è il periodo dove di più si riempie la piazza il pomeriggio, di fare un presidio di polizia con il camper che loro hanno a disposizione, purtroppo non c'è stata data nessuna risposta, ci avevano promesso che veniva fatto, fino ad oggi non è stato fatto, non sappiamo perché. Non è il caso di criminalizzare eccessivamente la borgata, è chiaro, non solo vandali, tant'è che poco distante al solarium dello sbarcadero c'è invece una mobilitazione proprio anche dei residenti per abbellirlo con iniziative ma anche materialmente, piante e quant'altro. Sì, posso dire questo, che la gente è entusiasta, quest'anno si è creato questo solarium voluto fortemente dal sindaco, l'avevo messo io nel mio programma elettorale di cui l'ha trovato anche, ha trovato collaborazione con l'amministrazione, molto entusiasti tutti i residenti e non per una cosa fatta allo sbarcadero, una bella area, un bel posto di mare, e stiamo insieme alle associazioni e tutto il consiglio di quartiere, ci stiamo mobilitando anche per abbellire l'area tutta vicino all'entrata del solarium stesso. Domani saranno collocate delle piante, oggi hanno collocato dei cestini per i rifiuti, non ci saranno più scuse per trovare qualcosa che non va.